Ciao raga, bentornati in questo nuovo e fantastico video, mi vedete col sorriso perché quel momento dell'anno sono usciti gli swap, hanno aperto le gabbie dei ludopatici per cui ci andiamo ad analizzare tutto quello che è l'evento swap più l'evento freeze, in questo video che sarà sicuramente lungo quindi mettetevi comodi però lo sapete che mi piace andare a toccare tutti i temi in maniera insomma fatta bene bene senza perderci ulteriormente in chiacchiere passiamo immediatamente in game così andiamo a analizzare la prima parte di questo video ossia gli swap, swap tanto attesi, swap che quest'anno non saranno ottenibili in rivals ma finalmente in amochievoli live dove il grado di tryharding sarà si elevato ma comunque si spera di trovare avversari quindi non alti di elo diciamo così quindi di punteggio rivals e andiamo a vedere immediatamente quelle che sono le ricompense per gli swap abbiamo a due token due pacchetti ultimate non scambiabili che sono comunque 50 euro di pacchetti onestamente io li bypasserei visto che c'è molta roba più succulenta e soprattutto i pacchetti ultimate si prendono banalmente dalle division rivals di grado 1 per quanto riguarda a 3 token abbiamo 5 pacchetti valutazione 85 più non scambiabili questi qua sono mezzi interessanti e vi dico in ottica toti però siamo consapevoli del fatto che al 99 su 100 da questi pacchetti usciranno i 85 o al massimo i 86 però questi qua potrebbero essere mezzi interessanti se proprio non avete ulteriori pretese abbiamo a 5 token 25 83 più che onestamente andrei tranquillamente a bypassare prima carta veramente tanta tanta roba e a 7 token il buon neymania vidic difensorone questo qui ragazzi chi ha avuto modo di provarlo ha detto che è veramente una gran gran carta e questo qui per la massima per la massima resa dei token per me è uno dei migliori che si può andare a sbloccare anche perché se vi fate questo poi vi potete anche andare comunque a sbloccare altro perché i token totali dovrebbero essere ve lo dico immediatamente i token totali sono 17 quindi si può fare tranquillamente una combo del tipo vidic più altro che andiamo a vedere personalmente io credo che il buon neymania lo andrei lo andrei a sbloccare perché questo qui voi mi fate 800 volte la domanda va meglio lui o virgil va lui o varana eccetera eccetera questo qua per me è una sorta di virgil ma un po' più alla varana nel senso è un po' più manuale quindi a me piace un botto già lo so in una mia classifica vi dico che personalmente può anche essere meglio di virgil è sicuramente meglio di gomez forse di varana no per la velocità ma è un signor difensore per cui questo qua veramente gg molto 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 valido vi dico sicuramente uno dei dei migliori per quanto riguarda 8 token abbiamo il pacchetto con a base che onestamente salterei proprio a pie pari perché abbiamo avuto già due sfide con a base ci sono pacchetti con a base o media se anche con a media prime quindi questo qua è proprio totalmente inutile a 9 token abbiamo il buon george agi il maradona dei carpazzi viene anche un po' da ridere giocatore comunque un po' ambiguo nel senso che statisticamente non sembrava anche male perché un 4-4 buone statistiche di velocità buone statistiche di tiro peccato per la finalizzazione ottime statistiche di passaggio eccetera 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 per cui questo qua è anche abbastanza decente vi dico non lo andrei a sbloccare perché per me è sempre meglio di acerci un neymar eccetera eccetera non andrei a occupare uno slot per questo agi e c'è comunque di meglio però se lo devo valutare come carta in sé potrebbe anche essere insomma mezzo stizioso pacchetto con a base o media che onestamente per 10 token anche qui non mi soffermerei più di tanto perché il rischio di incappare in una base che magari stava due token in meno è troppo alto quindi per 10 token questo qua per me non è valido ad 11 token invece abbiamo un'altra cartina molto interessante che è il buon davor suker 4-4 ottime statistiche di velocità per una carta che è anche 1 metro e 83 ottime le statistiche di tiro chiaramente c'è anche un buon passaggio corto un po' meno lungo ottime le statistiche di velocità anche se un po' la forza del body type secondo me lo appesantiscono lievemente quindi non vi aspettate un'agilità alla neymar ma magari più alla ma forse un po' in meno di mbappé ma bene o male sia lì forse un po' più di torres va forse alla torres un po' più agile di torres secondo me mbappé ho esagerato però questo qua per avere un attaccante icon insomma è un altro molto molto valido e diciamo che in cima alle mie alle mie preferenze si colloca al al secondo posto al momento abbiamo vidic al primo e il buon suker al secondo per 11 token vi dico che ci può stare così come ci può stare il pacchetto icona media a 12 token perché ovviamente il pacchetto icona media alza un po' il range anche se bene o male le icone utilizzabili sono sempre le stesse però qua magari rientra anche un gullit mid un renove mid che invece in versione baby sono un attimino un po' ambigui quindi se non vi piace nessuna di queste carte volete tentare la sculata io vi dico anche provateci non provate invece a pensare minimamente a 13 token al buon ronald mcdonald coeman perché insomma sono tanti token praticamente vi limitate a poter prendere solo lui e magari qualche pacchetto non scambiabile è un difensore molto molto avereggio con buone statistiche in altri ruoli non mi venite a dire lo prendo per spostarlo al centrocampo no per me questo qua chi nasce tondo non muore quadrato non può fare sicuramente il centrocampista non mi andrei a inventare cose esotiche perché poi comunque c'è qualcuno che dovete switchare a dc e non ve lo dovete mai dimenticare e vi ripeto questo qua io onestamente non lo guarderei proprio una carta mezza ambigua è sto rai card perché per 14 token ci avviciniamo anche qui al massimale di token disponibili e che onestamente io non mi sento di andarmi a giocare su una carta come questa perché rai card da che mondo è un mondo è un tronco pazzesco in mezzo al campo non si gira c'è piedi un po' mezzi fucilati anche se in realtà ha ottimi passaggi ma vi assicuro che questo quando io l'ho provato non rispecchiavo assolutamente questi questi parametri per carità poi le statistiche difensive sono molto molto valide ma per me questo qua rimane sotto un po' barul breaker un kante if un renato sanchez quindi non andrei a sprecare le vostre carte token per questo per questo rai card che sembra più un porno divo degli anni 80 per quanto riguarda invece le 15 token abbiamo il pacchetto icona media o quello prime cosa molto 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 più interessante perché insomma qua la percentuale poi di carte che diventano veramente top inizia a salire però anche qua il discorso è lo stesso di prima se non avete la necessità di dover prendere nessun player che vi va a svoltare la squadra e volete cercare la sculata ci può anche stare così come potrebbe essere devastante sto pacchetto icona media 89 più perché vi dà la possibilità di poter tentare il gulit che è 90 l'eusebio che è 91 il cruif che è 91 questo qua devo dire che è molto 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 ambiguo perché veramente è probabilmente una delle migliori scelte se non avete grosse pretese di giocatori per 17 onestamente per 17 token non mi rischierei quest'icona base a scelta che è un pick praticamente insomma quelle veramente top sono molto molto poche quindi non mi ci andrei a gettare tutto qui così come andrei tranquillamente a bypassare il buon titi Henry che per 17 token non è il massimo della vita questo qua era buono su fifa 18 poi è totalmente sparito dai radar perché sebbene 4-4 è un tronco io ve lo assicuro non è veloce come rispecchia non va via in velocità movimenti ampi ma manco troppo insomma molto molto average non è il top player che vi vogliono far passare quindi io lo boccerei e in una mia personale classifica di scelte io andrei ad optare per un vidich più un pacchetto icona base o media che si potrebbe tentare per giusto per completare i token o altrimenti andrei a optare per una scelta del tipo il pacchetto icona media 89 più che è molto 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 interessante quindi per quanto riguarda gli swap raga io credo che ci siamo detti tutti quindi giocatori interessanti vi dice su che il resto sono un po delle trappole e per quanto riguarda contenuti interessanti pacchetto icona media 89 più e per quanto riguarda invece quei pacchettini iniziali si potrebbe anche pensare a quel pick con 5 pacchetti da 85 più e la prima parte del video l'abbiamo messa in archivio adesso passiamo rapidamente sul pc dove abbiamo invece l'evento freeze evento freeze che non è altro che una sorta di... come si chiamavano quelli? shapeshifter, giocatori che cambiavano ruolo, piede debole eccetera eccetera qui abbiamo tutta una serie di carte che cambiano ruolo la prima è stadio fucking main che diventa attaccante questo qua secondo me costerà un macello ed è veramente tanto tanto forte perché riceve veramente un boost importante rispetto alla carta... alla carta 91 per quanto riguarda la finalizzazione più 4 diventa veramente tanta roba riceve anche un boost in velocità e se questo qua era valido questo qua risulta validissimo e la posizione centrale lo rende anche maggiormente ibridabile anche in squadre dove magari ci sono i top e i big e le varie icon quindi questo qua big up per money ovviamente straconsigliato carta alquanto mi viene da dire esotica è questo casemiro in versione difensore centrale che riceve un boost pazzesco in velocità addirittura più 12 di accelerazione e 14 di velocità scatto riceve un bel boost anche per quanto riguarda stranamente le statistiche di tiro va a perdere... no scusatemi il boost non è vero qui ha subito un downgrade nelle statistiche di tiro a vantaggio delle statistiche difensive che diventano statistiche da top e se voi mi andate a chiedere questo che ruolo va a occupare secondo me è comunque inferiore a un Varane o a un Jimenez Rule Breaker quindi diciamo che è il terzo difensore di Liga e non è che ci andrei a fare grosse follie perché comunque raga ricordatevi che queste carte per essere valide deve essere valida comunque anche la carta base perché come dico sempre chi nasce tu numero quadrato quindi scordatevi che questo all'improvviso sia diventato Rio Ferdinand e sia il difensore migliore del gioco perché assolutamente non è così e in una scala di gerarchie questo qui è dietro vi ripeto a Varane, Jimenez e anche magari a quel cuon d'è stesso discorso vale per il buon Marco Verratti che 4-4 gli hanno dato un boost di 24 in velocità con 26 di accelerazione e 22 di velocità scatto una roba atroce di boost di tiro con 25 in più di finalizzazione 24 in più di potenza tiro una roba veramente che non si spiega dribbling anche qui un punticino in più statistiche di passaggio anche che vengono potenziate insieme al fisico questo qua l'hanno reso stranamente una carta strana strana e utilizzabile ma per 540.000 questo a fargli falle esterno onestamente non è che insomma ce lo vedo più di tanto perché è un metro e 65 non va via in velocità più di tanto perché non ha questa ampiezza nei movimenti quindi bocciato il buon Verratti le a sinistra rimane superiore nei marri, liga e compagnia il vario Bamba eccetera altra carta molto interessante è questo Bernaldo Silva in versione trequartista anche qui rientra in un gioco di bridabilità interessante riceve bei boost per quanto riguarda la velocità con 4 punti in più di velocità scatto e accelerazione potenziate tantissimo le statistiche di tiro con un 8 in più in potenza tiro e long shot buona anche il dribbling con un punticino in più gli viene potenziata anche lievemente il fisico peggiorata la difesa ma insomma questo deve fare comunque il trequartista e secondo me è una delle carte più interessanti di questa promo perché un vero e proprio trequartista in Premier manca e questo qua secondo me si colloca un gradino sopra i vari Firmino If, De Bruyne eccetera eccetera è molto molto interessante che poi Bernardo Silva best meme di Spiderman con Pjanic sono assolutamente identici altra carta vi dico interessante che tra l'altro sono tutte cappate sto vedendo e sto Lautaro Martinez perché questo qui da punta per me è un po' un tronco da esterno potrebbe rendere e riceve un bel boost in velocità con 8 punti in accelerazione e velocità scatto un bel boost per quanto riguarda il dribbling un punticino in più di tiro ovviamente sempre rispetto alla carta base il problema di sto Lautaro è che pur avendo un bel body type viene appesantito da quell'83 di forza però vi dico che messo in fascia questo sicuramente è il migliore esterno destro che abbiamo in serie A è un tentativo su sto Lautaro per me può essere anche fatto stesso discorso più o meno analogo vale per sto Torgan Hazard che diventa attaccante e se avete bisogno di un qualcosa per andare a ibridare i vostri giocatorini di Bundesliga sto Hazard potrebbe anche workare vi dico e 4-4 riceve un bel boost per quanto riguarda velocità tiro, finalizzazione con più 10 e più 10 anche i parametri di agilità sono molto interessanti però vi dico ovviamente non ci farei follie se avete una Bundesliga e avete bisogno di un giocatore allora sì ma certo non è che mi ci metto a ibridare sto Hazard poi non costa manco tanto e devo dire 150.000 per la carta che vedo mi sembrano molto molto validi carta molto molto strana è sto Lucas Torreira terzino che riceve un boost clamoroso in velocità vi vengono boostate anche statistiche di dribbling e di difesa ma onestamente questo qua non lo vedo titolare da nessuna parte perché è un 1,68 di terzino con 76 di forza insomma rimane dietro secondo me sicuramente Mendy magari se la gioca un po' con Jordi Alba ma non vedo veramente modo di andare a piazzare sto Torreira nelle nostre squadre altro giocatore con sta treccina viola mezzo esotico e sto Nani 5-5 devo dire tanta roba riceve un bel boost in velocità con 11 e 9 in accelerazione e velocità scatto buone le stats di tiro perde perde un pelo non è vero viene boostato anche dribbling fisico persino la difesa anche i passaggi questo qua raga per quello che costa secondo me può essere un ottimo super sub sia per quanto riguarda ruolo di di seconda punta se giocate con un 4-4-2 molto statico sia se lo volete utilizzare come C.O.C. da esterno non tanto sicuramente non pensate di lanciarlo in velocità a Stonani che diciamo non corre più un'altra carta mezzo esotica è sto Riccardo Rodriguez che insomma riceve un lieve boost in velocità ha boostato la difesa il dribbling il fisico ma insomma non mi sognerei di metterlo titolare in una serie A dove abbiamo Nengolan Rule Breaker e che sì Europa League che sono 100x anche Milinkovic insomma molto molto average questo Rodriguez molto molto average anche questo Sané insomma sul quale non mi soffermerei più di tanto visto che in Bundes abbiamo giocatori del calibro di Goretzka Kimmich e compagnia insomma una cartina molto ambigua altra carta molto strana è sto Goloven che viene messo addirittura terzino boostata pazzescamente la velocità boostata anche la difesa e il fisico ma insomma non è che vado a mettere Goloven terzino destro anche perché è francese il campionato francese russo non linka praticamente niente piuttosto è molto 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 interessante sta carta di Marchignos in ottica ebridabilità perché riceve buoni upgrade per quanto riguarda il dribbling l'accelerazione addirittura gli viene boostato il tiro in maniera incredibile statistiche di difesa che rimangono anche abbastanza quelle gli viene boostato anche però in maniera clamorosa il passaggio questo qua se è sbloccato a prezzi umani vi dico potrebbe anche onestamente potrebbe anche onestamente rendere da mediano potrebbe essere anche una soluzione per linkare il buon Bappé eccetera eccetera però non mi ci svenerei ovviamente anche su questo non lo pagherei più di un 50-60k anche se è un 87 immagino che la SBC costi ultima carta il buon Bolasì che pace all'anima sua 5 di skill e 3 di weak foot insomma ha finito i fasti del baggatone riceve un bel boost in velocità un bel boost in tiro molto importante con 19 di shot power e 15 di finalizzazione un bel boost in passaggio insomma una carta che insomma all'atto pratico è effettivamente parecchio boostata ma non mi ci andrei più di tanto a applicare se fossi in voi sul buon Bolasì quindi ricopitolando per quanto riguarda Steve Ries tenere d'occhio anche quelle che sono le SBC giornaliere che usciranno carte più valide sicuramente quel Manet ovviamente me li sono anche dimenticati perché li ho chiusi invece di lasciarli qua bello della diretta esatto quel Bernardo Silva anche quel quell'autaro diciamo sono le carte un po' più interessanti e nuota ragazzi per questo video che spero serva un po' da intanto cadeva il pad serva un po' da mantra è tutto mi raccomando prendete guardatene tutti in maniera tale vi risolvete i più comuni dubbi commentate lasciate un like e fatemi sapere quello che ne pensate iscrivetevi al canale che stiamo andando a bomba io vi saluto e vi auguro una buona giornata ciao ciao